Aria di crisi tra Luca Salatino e Soraya Cerruti, i due ex volti di uomini e donne, nonché noti al grande pubblico per la partecipazione di Luca al GFVIP, si sarebbero lasciati. La notizia circola in rete da diversi giorni. A confermare la maretta sarebbe Dejanira Marzano, secondo la quale Soraya si sarebbe semplicemente stufata di Luca. Proprio Luca che abbandonò il grande fratello per stare insieme a lei, adesso si ritroverebbe con un pugno di mosche in mano. Soraya non ha però preso bene la scelta di Luca di abbandonare i reality. Non si sa se questa decisione possa aver generato del malcontento in Soraya, che era entrata anche nella casa per chiedere al fidanzato di restare in gioco. A confermare la rottura ci sarebbero anche i video di Pasquetta, che i due non avrebbero passato insieme ma separati. Ma voci persistenti confermerebbero la loro futura partecipazione a Temptation Island e che la notizia di una loro presunta rottura sia stata montata solamente per portare i riflettori sulla loro coppia. Staremo a vedere! Staremo a vedere!